Siamo qui con Abba Nagana e parliamo di un argomento un po' particolare, i Templari. Non è una cosa antica ma esiste ancora oggi. Di che cosa si tratta in particolare? Facciamo un quadro iniziale. Beh, è un ordine. Siamo cavalieri monaci, monaci cavalieri di origine, di derivazione cistercense, sotto la regola di San Bernardo e Chiara Valle. E come statuto abbiamo sopravvivenza del genere umano, operi umanitarie, difesa del cristianesimo, sopravvivenza del genere umano che è già impegnativa e altro. E molto altro. E che cosa fate in particolare? Qual è il vostro rapporto con la società, col territorio? Beh, intanto dare messaggi che è il nostro compito, operi umanitari per cui sociali, e praticamente abbiamo una vita come impostando la bandiera bianca e nera, spiritualità e terrenità. Per cui c'è un rapporto, un equilibrio tra quello che è la spiritualità perché c'è veramente un percorso e terrenamente cerchiamo di darci da fare.